In questo numero di Agri-Food Magazine Cresce l'export negli Emirati Arabi Riso, nel 2022 vince quello certificato Triplicati i birrifici artigianali Tavolo olivicolo Più risorse per potenziare il settore L'export agroalimentare italiano negli Emirati Arabi Ha fatto segnare una crescita del 46% nel 2022 Con un giro d'affari che sfiora i 400 milioni E quanto è emerso a Dubai durante Gulf Food 2023 Manifestazione fieristica dedicata al settore alimentare Della regione del Golfo e del Medio Oriente L'Agenzia ICE ha organizzato presso la fiera l'Italian Food Lab Un'area che ospita masterclass sull'eccellenza del Made in Italy E cooking show con chef stellati L'obiettivo è facilitare i contatti commerciali con gli operatori locali E incrementare le opportunità di business per le aziende italiane Per il presidente dell'Agenzia ICE, Matteo Zoppas Gulf Food con i suoi 5.000 espositori È diventato un evento di rilievo globale E un'occasione per confermare la centralità del ruolo dell'Italia Per il settore agroalimentare Con la seconda posizione per numero di espositori, circa 200 L'Italia gioca un ruolo importante E gli impenditori confermano una grande vocazione all'export Sono state oltre 40.000 le tonnellate certificate di sementi di riso Nella campagna 2021-2022 Con un ottimo coefficiente di utilizzo di semente certificata Pari a 1,61 In linea con quello del 2021 Oltre 7.500 tonnellate di sementi Sono state esportate sia in paesi comunitari che extracomunitari Questi alcuni dei dati più significativi elaborati dal CREA E presentati in occasione della consueta riunione annuale Sulla certificazione delle sementi di riso La superficie destinata alla risicoltura nella campagna 2022-2023 Ammonta a 11.474 ettari Di cui solo il 15% non idonei a produrre sementi Mentre la superficie approvata è inferiore a quella della scorsa campagna Elemento che non dovrebbe compromettere però i quantitativi certificabili Nella campagna di semina attualmente in corso Secondo il CREA Alla luce delle attuali richieste di mercato La produzione sarà in grado di soddisfare la domanda degli agricoltori Per quasi tutte le categorie Negli ultimi dieci anni in Italia I birrifici artigianali sono triplicati Superando la quota record di 1.085 realtà nel 2022 Il dato emerge dall'analisi della Coldiretti E del Consorzio di Tutele e Promozione della Birra Artigianale Italiana In occasione del Beer and Food Attraction di Rimini Una crescita, sottolinea Coldiretti Che ha fatto salire la domanda di materie prime 100% made in Italy Con il luppolo che da zero ha raggiunto oggi Un milione di metri quadrati coltivati lungo la penisola Ai quali si aggiungono i 300 milioni destinati all'orzo Per la produzione di malto Da potenziare perché copre per adesso quasi il 40% del fabbisogno nazionale Con circa 83.000 tonnellate Nel 2022 i consumi nazionali di birra superano il record storico Di oltre 35 litri pro capite per un totale di 2 miliardi di litri Generando un volume di fatturato Che considerando tutte le produzioni vale 9,5 miliardi di euro A sostenere il comparto c'è il taglio delle accise previsto dal decreto 1000 proroghe Il quale prevede per i piccoli birrifici artigianali con una produzione sino a 10.000 ettolitri Lo sconto sulle accise per il 2023 al 50% Per chi produce sino a 30.000 ettolitri sarà pari al 30% Mentre per le imprese sino a 60.000 ettolitri lo sconto arriva al 20% Potenziare l'olio made in Italy a livello produttivo e qualitativo È questo l'obiettivo del primo tavolo olivicolo Che ha riunito al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Tutti gli attori della filiera Con il sottosegretario di Stato Patrizio Giacomo Lapietra L'incremento della produzione di olio italiano e la competitività sul mercato interno ed estero Ha spiegato il Vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo Non può che passare dall'incremento dell'aggregazione del prodotto attraverso le organizzazioni di produttori Occorre anche tutelare meglio l'olio extravergine d'oliva nazionale Mediante processi di certificazione che garantiscano il giusto reddito a tutti i soggetti della filiera In particolar modo alle aziende agricole Troppo spesso l'anello più debole della catena, anche se il più importante Per il Vicepresidente Cia, la misura del piano olivicolo nazionale Con una dotazione di 30 milioni ha lasciato fuori tante imprese Per questo bisogna trovare risorse adeguate per l'attuazione di queste importanti misure Che vanno proseguite e implementate Sicolo ha infine ribadito la sua preoccupazione per gli effetti della PAC 2023-2027 sulle imprese olivicole Così come per il fenomeno dei cambiamenti climatici e per le problematiche fitosanitarie come la xylella Per la quale urge un commissario ad acta in grado di prendere le giuste decisioni Non più procrastinabili, visto che si corre il rischio di perdere la produzione della prima regione olivicola italiana Grazie a tutti